buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno sempre movimento e questi giorni si è trovato qualche fungo brutti 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 però la la passione il desiderio di vedere quei quei cappelli ci porta nuovamente in marcia nuovamente per la strada nuovamente andare a vedere se si riesce a trovare qualcosa e vai e vai e vai mai arrendersi e mai 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 ormai la mattina ci accompagna questa nebbia tutte le mattine ragazzi c'è questa nebbia e c'è poco da fare c'è poco da fare direzione anche questa volta è il mare si va verso siena e poi via verso il mare e vai avanti 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 un po di strada da fare colazione colazione non ce l'aveva nessuno la pasta una sfoglia alla mela si è un cappello una sfoglia alla mela si è un cappello e vai ragazzi ci siamo di nuovo guardate i gallinacci subito subito un bel gallinaccio ci sono oggi ci sono solo gallinacci c'è poco da fare c'è poco da fare c'è poco da fare però si vedrà giallo anche oggi marrone non è facile non è facile comunque sentire ragazzi uno di ogni bosco si sta proprio bene il bosco si sta proprio bene guardate qua avanti 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 matto non resisto resisto giornata strepitosa guardate qua forse ci sono funghi ci sono oggi già andati già partiti già partiti mannaggia avanti 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 parò è un'emozione però estimo Future fa un emozione però è un emozione ed �익uvi vedere che i dei gallinacci Scegli è un belloeddoto ma quando tu lo vedi ma fai sempre una bella emozione l'emozione e vai avanti 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 guardate i bei gallinacci sono qui guardate belli 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 guardate guardate i gallinacci belli ci sono qua wow 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 questo è un chilo questo è un chilo e ragazzi c'è un po' da fare con i vecchi quelli si può trovare e gallinacci avanti 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 anche gli stessi di gallinacci c'è qui guardate i gallinacci di gialla belli 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 e di poco guardate ma guardate quanti e poi tutti tutti veramente venienti con tutta l'acqua che è venuto perlomeno questi sono stratosferici proprio guardate qua quanti eccoci ora vi mostro come sono i funghi ragazzi guardate qui c'è uno fra questi vedete piccolino ma già oh ma questo qui forse è più bellino di tutti oh questo forse è più bellino di tutti dai sicuramente questo è commestibile un campo duro senza pai questo è cosa ci dice ci dice le nuove nascite non hanno vermi guardate questo qui è durissimo senza vermi grande qui ce n'è un altro ci ha mangiato dalla lumana però anche questo qui il gambo perfetto guardate il gamberellone guardate aspettate guardate due 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 non ho visti un altro che ho visto qua guardate eh ora ve lo mostro ma qui dopo bisogna guardare per bene un altro eccolo qui ora si mettano tutti qua eh guardate qua questi due sono belli diciamo un altro eccolo qui non male dai non male non male non male era tutto spolpato spolpato però i pachi non ci sono qui i pachi non ci sono era mangiato dalle lumache poi ne abbiamo tre poi ne abbiamo un vecchiarello quattro quattro anche questo e anche questo vi dirò che l'è spolpato ma i pachi non ci sono un altro era lì però qualcuno l'ha pestato cinque funghi e vai avanti 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 siamo a sei non male dai non male quella piccola puttata ci sono di nuovo gallinacci dove ce ne erano ben cinque tutti insieme mai quest'anno ovviamente mi era capitato di trovare cinque porcini tutti insieme gallinacci siccome adesso ma purcini cinque no non ho risultato avanti 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 va giù in basso di qua ma che cosa fanno a prendere gallinacci belli così via bisogna guardate vi faccio vedere mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia bellissimi bellissimi guardate questo questo sarà un chilo mamma mia che gallinaccio guardate che bellezza guardate che bellezza ora ci vuole tempo a raccoglierli eh guardate anche là sotto avanti 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 matto per i funghi guardate tutti in un posto quante ce n'erano mamma mia o cosa pesano a sette è proprio spolpato però avanti 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 ci sono gallinacci guardate come c'è bello qui è addirittura guardate questo questi belli questi sono carlosi ma guardate questo dove è nato proprio attaccato sulla ceppa di questo perciolo quando si dice che voglia nascere a tutti i costi avanti 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 guardate ragazzi il cinghiale quella pianta la l'ha seccata vedete questo è un pino e poi il caloso questo guardate con le zanne guardate con le zanne come raschiano per tirar fuori la resina sono passato da un fossetto e sono stato premiato ragazzi stessa tipologia dei funghi che bello è mangiato tutto vedete questo potrebbe essere anche discreso un tempo un bel gallinaccio eh qui hai fresco ragazzi tanta roba ricardo ricardo e vai matto matto altro scheletro ragazzi altro scheletro ridotto a nulla mamma mia mamma mia come il numero siamo a 9 però non sono da considerare i funghi questi quindi 0 vai grazie allora io ve lo dico finalmente 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 guardate 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 che bellezza guardate qua questa è una partenza di sicuro questa è una partenza dei primi funghi belli i primi funghi degni di rosa dei figli matto 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 ecco va e 12 quindi uno più dell'ultima volta ragazzi si conclude anche questa questa innesima giornata però è divertente ora vi faccio ridere ora vi faccio proprio ridere allora come è andata due soste in due aree diverse ma vicine tra loro tanti gallinacci tantissimi galletti in una maniera veramente anche belli e poi di funghi ne ho trovati 12 13 13 14 14 però diciamo bellini sono tre forse ma adesso vi faccio ridere perché perché guardate io ci ho messo ad a connotare questi funghi ho messo una mezz'oretta ho scelto questo posticino vedete sempre scelgo un tronco un sasso mi piace così mentre ero per iniziare a fare questo video ho alzato gli occhi ho alzato gli occhi e che ho visto guardate che ho visto guardate che ho visto qui ma guardate che c'è qui ho visto sotto a questo legno è un cadavere no però voglio dire e c'era un altro fungo matto 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 mat tanti funghi questi però vedete ci sono un paio questo qui è bellino senza nemmeno un verme questi due di nascita e anche questi però considerate che di vermi qui non ci sono fatto salvo i due ho trovato qui proprio prima di mettermi a comodare questi gallinacci quindi che dirmi avanti 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 ragazzi porcini e passione lo aspetto sul canale e vai mai a rendersi mai 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 mai